salve a tutti amici di studio disciplina marziali questo non sarà un tutorial ma sarà un video uno dei primi video anzi il primo video in cui parleremo dei vari personaggi di spicco delle discipline marziali e degli sport da combattimento quindi parleremo per esempio di Mike Tyson il pugilato di McGregor nella MMA o comunque dei vari esponenti di spicco delle discipline marziali sia dei tempi moderni sia dei tempi andati quindi vi parlerò anche per esempio nel karate di Jibuza Raffaele Agaieb dei vari pugili che stanno comunque sia nei tempi passati che hanno fatto la storia del pugilato ma anche nei tempi adesso moderni come Canello che stanno guidando lustro alla box a i vari campioni di MMA alla famiglia Grace del Presidente Jiu Jitsu oggi vorrei guardarvi inseriamo questo video con il karate e più specificatamente il karate di Okinawa Okinawa è stata la culla del karate dopodiché trasferitasi in Giappone è stata espostata in Giappone al karate da lì è stata espostata in tutto il mondo grazie al maestro Jiki Furagoshi che è stato anche chiamato il padre del moderno karate comunque non so se sia quanto possa essere giudicato vero però possiamo dire che il karate Shotokan è uno dei quattro stili più diffusi a livello mondiale oggi parlerò di questo grande maestro un po sui generis che si chiama Motobu Joku è nato a Shuri quindi Shuri ad isola di Kinawa nel 1871 era il terzo figlio di Motobu Joku è stato il terzo figlio di una famiglia di ranko molto di una famiglia di ranko del Rikyu che non è tanto che Rikyu in un altro modo di dire un mattino dell'isola di Kinawa non ha avuto una educazione formale perché come succede spesso come succedeva nella tradizione di Kinawa il primo figlio aveva la possibilità di avere un'educazione accademica importante e anche essendo un nobile okinawaese di avere la possibilità di imparare arti marziali gli altri figli non avevano questa possibilità probabilmente a Motobu questa cosa mi piace non piacque proprio e quindi decise di diventare l'uomo più forte di Kinawa quindi l'uomo più forte nell'isola per Karate uno dei suoi metodi di allenamento era il Kage Madeshi che non è tanto che andare a sfidare le persone nel quartiere di Rikyu nel quartiere di Abucidossi di Okinawa per testare le loro abilità dei combattenti da qui ci sarà un primo episodio perché il giovane Motobu lo porterà verso la sua grandissima abilità marziale nel Karate incontrò un certo Itari Kaes che era un altro esperto in questo Kage Madeshi cioè in queste visse da locali successe che successe che praticamente Motobu fu sconfitto dal più esperto avversario e quindi questa cosa lo mandò letteralmente paranoica passava ore e ore a ripensare a come era stato sconfitto alle contromosse che avrebbe dovuto adottare come fa un moderno combattente quando si va a rivedere i video dei combattimenti in cui ha perso e cerca in qualche modo di studiare quello che avrebbe dovuto fare le abilità dell'avversario e per adottare una strategia migliore non fu solo il suo unico scontro si scontrò anche con dei lottatori di sumo di Okinawa e praticamente ogni scontro imparava qualcosa non ebbe un'educazione marziale convenzionale anzi probabilmente il suo unico maestro fu un certo Motsumura Kosaku che però come tradizione premonense gli insegnò soltanto la parte dei kata nel diciamo nel zucco del kata nei facci o come viene chiamato lo scioto Kante di Shota per esempio gli imparava il kata e da lì doveva imparare qualcosa ma dopo gli ampeva le scatole doveva fare il tegumi o il kumitee compattimento libero per poter applicare tecniche ma Sunura non era molto d'accordo perché conoscendo il personaggio aveva paura che avrebbe usato le tecniche per andarla a testare nei locali di piacere, nei locali di luce rossa e nelle varie sfide però in qualche modo la tenacia del maestro Motobo fu premiata perché? perché c'erano dei... una tradizione premonense era l'insegnamento secreto si incontravano gli allievi più forti, gli allievi più promettenti e veniva fatto un ulteriore allenamento in maniera secreta semplicemente si prendeva là e si imparavano le tecniche che si diceva che erano migliori e che dovevano davantare probabilmente Motobo essendo un po' un birichino andò lì a spiegare le varie tecniche poi cercò di applicarle in maniera da sola tutto quanto e da lì creava un suo tipo di sistema di dibattimento quindi il nostro focoso Motobo cominciò il suo programma di allenamento e di studio del karate in maniera praticamente quasi da autodidatta e ha preso una certa tecnica, una certa abilità un po' per le varie risse che faceva nei locali notturni qualcosa di imparare a forza delle belle pugni un po' perché comunque le tecniche gli erano state insegnate e quindi un po' perché sapeva come applicarli un po' perché aveva anche delle qualità nata infatti veniva soprannominato Motobo o Shidna per la sua grande agilità nel 1921 si spostò da Okinawa al Giappone il precisamento Saga e lì successe un fatto che lo rese romosissimo c'era praticamente una sorta di competizione aperta a tutti chiunque poteva andare là su ring affrontarsi al Gidoka con i pugili, l'ottometri su kumo e per testare le probabilità contro l'altro avversario a un certo punto un uomone straniero cominciò a sfidare tutti i vari combattenti Gidoka, Sumo Tori, Sumo però nessuno aveva il coraggio di essere il su ring questo gigante per l'epoca i giapponesi non superavano neanche il 1960 quindi questo gigante di un maio d'ottanta che sapeva combattere una pugile e suonava il coraggio di essere il su ring vuoi perché nonostante ormai Motobo avesse cinquanta anni era cantata a Stagalda vuoi perché si si interese quello di essere vuoi avere una spinta nazionalistica perché comunque questo stava facendo uno sbuffone a caso di altri decise di servire su ring li si mesi in guardia e da qui poi ci sono diverse versioni in cui magari alcuni dicono che si mesi in guardia Pinan, Yutan non penso sia successo perché una guardia del genere per un pugile almeno discreto sarebbe stata facile da contestarla io penso si sia messi una guardia a mani aperte comunque una guardia un po' particolare e riuscì a stenderlo con un colpo alla tempia lì praticamente il karate era più sconosciuto Funakoshi stava cominciando a muovere i primi passi in Giappone quindi nessuno sapeva che tipo di tecnica era ma da lì scoppiò il boom del karate o comunque dell'arte di Ekinawa del combattimento di Ekinawa lì si è famosa quindi possiamo dire che anche grazie a lui non soltanto probabilmente ce l'avrebbe fatta comunque perché il lavoro che mi avrebbe messo Funakoshi era molto più certosino rispetto a quello di Motobu ci fu questo boom del karate in Giappone e da lì fortunatamente il karate del Giappone venne espostato in tutto il mondo e possiamo dire che comunque grazie alla teracia e all'attività del maestro Motobu insieme ad altri maestri adesso anche noi Giai Chin noi stranieri possiamo usufruire di questa splendida arte se vi è interessato questo video spero che vi sia interessato ne farò altri in cui parlerò sempre in breve un piccolo sud di questi vari esperti maestri atleti che stanno dando lustro che hanno dato lustro che comunque sono stati significativi per la loro disciplina perché è importante fare dei tutorial per imparare le tecniche l'autocarate giudo la IOT e tutto quanto ma è anche importante conoscere questi personaggi perché c'è una morale dentro questa storia avere la possibilità avere le capacità avere la volontà di imparare ti porta a ottenere quello che vuoi Motobu non è nato fortunato non io non insegnare a nessuno l'arte del karate non è stato addentrato nelle discipline marziali dal padre giustamente perché praticamente la loro cultura diceva che il primo genito doveva fare tutto mentre gli altri si dovevano arrangiare però nonostante sia partito svantaggiato è diventato una leggenda Aodokinawa e da lì anche nella varia parte del mondo del karate quindi un abbraccio spero vi sia piaciuto il video alla prossima fatemi sapere se vi interessa la storia di qualche grande bugile c'è Dempsey per esempio questo è molto interessante il bugilato o MMA McGregor o Khabib e cercherò di documentarvi il più possibile per rendere partecipe di questi personaggi splendidi un abbraccio e alla prossima puntata di studio disciplina marziali di studio di studio di studio di dunque per l'escrizione è Grazie per la visione